Hai delle bucce di anguria? Non buttarle perché contengono tante vitamine e sali minerali. Oggi scopriremo come riutilizzarle creando una marmellata o confettura che potete riutilizzare per la colazione di domani o anche per farcire delle torte. Prendiamo delle scorzette di limone, solo alla parte gialla. E ci servirà per la ricetta. Mettiamo le scorzette di limone, un po' di zucchero, 80 grammi più o meno, e polverizziamo a velocità 10 per 10 secondi. Riuniamo sul fondo con la spatola e aggiungiamo la polpa di anguria, quello che avevamo fatto a tocchetti prima. Aggiungiamo del succo di limone, un limone piccolino basta. A questo punto chiudiamo mettendo il cestello per parare gli schizzi e per 35 minuti a 100 gradi andiamo a velocità 1. finita la cottura andiamo a frullarla per pochi secondi. Come vediamo, a fine cottura si presenterà molto liquida, man mano che si raffredderà si riaddensa. Possiamo versarla in un vasetto e nel giro di 7 giorni va consumata, oppure mettendola nel sottovuoto, nei vasetti sterilizzati, possiamo conservarla anche come una confettura invernale. Come vedete abbiamo sfruttato il nostro gocomero o anguria che dir si voglia al 100%.